il teorema della spada di lucio sandon bertoni editore il mio nome è amilcare e mi chiamo come mio nonno che era un grandissimo stratega il più grande generale che cartagine abbia mai avuto e mia madre si chiama imilke ed è la mamma più bella e buona del mondo ho appena compiuto nove anni e tra poco entrerò alla scuola militare così potrò diventare stratega come fecero mio nonno e mio padre forse anche mio zio potrebbe un giorno diventare stratega mio zio magone è il soldato più forte di tutta l'africa anzi di tutto il mondo lui è grande come un orso e la sua voce è come il tuono uccide tutti i nostri nemici e può bere un'anfora di vino senza mai staccare la bocca per respirare magone è alto più di quattro cubiti la sua corazza d'oro è talmente lucida e splendente che quasi non riesco a guardarla anche mio padre un bravo soldato però lui è un po più basso di magone anche se di età è più grande papà arriva quasi alla sua spalla e la sua armatura non è così splendente come quella di suo fratello è di semplice cuoio nero con delle borchie di rame puzza un po di sudore di qualche altra cosa ma non proprio tanto mio padre è un cane è un mastino da guerra che si chiama uruk uruk è grande nero sembra ferocissimo invece un cagnone buono mi vuole bene ha solo un difetto quando mi vede mi corre incontro e mi butta per terra poi mi lecca e mi riempie tutta la faccia di bava questa abitudine mi fa un po schifo e poi quando lo fa dopo mi tocca lavarmi e questo mi dà ancora più fastidio sono un po arrabbiato con mio padre perché l'altro giorno ha fatto piangere la mamma ho sentito che discutevano nel peristilio per molto tempo mio padre parlava a bassa voce e mamma non rispondeva poi lui le ha detto delle parole che non ho sentito quello che ho capito però era che il tono era molto duro dopo lei si è messa a piangere ed è scappata via mi sono reso conto poi che da quella sera la mamma mi vuole tenere sempre vicino e mi copre di baci questa cosa dei baci mi piace però mi dà anche un pochino fastidio quando lo fa davanti a tutti perché io sono grandi quasi un soldato mica un moccioso da coccolare quando le ho chiesto cosa fosse successo per chi avesse litigato con papà lei non mi ha risposto e si è messa a piangere di nuovo allora sono andato dal mio zio magone e ho chiesto anche a lui cosa stesse succedendo grazie a tutti grazie a tutti